Salve a tutti amici Lupacchiotti, io sono Rikimen e oggi siamo su Brawl Stars. Oggi siamo qui perché stamattina ho aperto il negozio per prendere... C'era anche una cassa gratuita, mi ha subito preso e non ho trovato niente. Però dopo un po' è uscita questa, una bella skin. E io non ce l'avevo la cassa, perché c'era i soldini. Perché io avevo i soldini invece? E ho visto che c'è questo regalo per le feste, stecca brigante. Quindi ho detto, mamma mia che bello! Dobbiamo prenderlo in video e ora l'abbiamo preso. Infatti, senza perdersi troppo di chiacchiere... Wow, che bello! Stecca brigante! Vediamolo un po'. Stecca. Non stiamo mica a carnevale, stecca brigante. Comunque, a voi sembra che sia... A quelli che giocano da tipo meno tempo a Brawl Stars, sembra che è una skin nuova. Invece... No! A quelli che giocavano da molto tempo a Brawl Stars, questa è la skin vecchia di stecca. Prima era così stecca. L'hanno un po' rimodellato, però era così. Davvero? Sì. Non me lo ricordavo. E poi a me è piaciuta questa idea, perché a me mi serviva una skin di stecca che faceva tipo il cattivo. Perché tipo nelle mappe di... di Retropolis, dove si deve essere un po' cattivi, io... non voglio... io metto sempre una skin criminale, tipo Shelly Bandita pure, colto fuori legge. E io, di solito, a volte, proprio poco, uso anche stecca in quelle modalità. E quindi la voglio usare... adesso possiamo. Bene. Allora, non so se fare raffagemme... o... dobbiamo fare raffagemme. Ma quale modalità hai? Perché è l'amichevole. Ok ragazzi, eccoci in partita. E niente. Verso la vittoria. Occhio con la Shelly. Io, Leon. Occhio, non lo so usare molto bene. Aiuto. Io, di secca, non lo so usare bene. Occhio. Sceglie a sinistra. Sì, ho detto giusto. Meno male, perché altrimenti mi prendevo gli insulti che... Ah, non so distinguere la resta da sinistra. Ah, ah. E invece la so distinguere. Ah, vedi? Comunque il nostro Dynamite ha fatto il devasto totale. Mentre io non stavo facendo un cacchio. No, in realtà anch'io adesso ho fatto qualcosa. Aia! Beh, sì, ho fatto qualcosa. Ovvero, morire. Madonna, si vede che non sono tagliato con stecca. Non potevano fare la skin di Leon, di... di rosa. Di qualcuno che uso. No. Di Bull. No, devono fare la skin di stecca che non lo uso praticamente mai. Mai. Occhio. Sì, ma se il mio compagno che ha tutte le gemme si va a buttare in mezzo al nemico, non credo sia una buona idea. Mamma mia, Dynamite! Ti vengono ad aiutare. Arrivano i soccorsi! Mamma mia! Cosa ho fatto? L'acqua. Allora... Io non so come sto facendo a vincerla. Anche se sono uno scarsoide dello schifo. Voilà! L'abbiamo vinta! La prima valdita con stecca brigante vinta! Bucci, bucci, bau, bau. E adesso dobbiamo andare in rapina. Dobbiamo vincere la rapina! Attenzione, questa è una rapina. No, è una bordo bietola! Ok, allora... Ti sparo! Oh, come ti permetti? Bruta hands! Oh! Vai! Shelly! Sì, però l'obiettivo non è ammazzare i nemici, è prendere quella cassa. Ma non si sa come si fa. Perché sono circondato da nemici. Praticamente dovrei fare l'agente 007. Vai! No, forse ci riesco. Forse ci riesco. Oh no! Morta tu? Ehi, orsacchiotto! Vai a ammazzare il cicciotto! Il carletto cicciotto! E non abbiamo preso tanto danno nemmeno. Aia! Ok, allora... No, hands! Em, zem, 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 zem. Due, due Aiuto, perché ho sprecato la ultima, io mi chiedo Vabbè, tanto non era poi nemmeno così utile Infatti l'ho appena ricaricata Ed è stata lo stesso inutile, quindi Vabbè Allora, adesso ci attaccano alla sinistra Oh, cavolo Scegli i rinasci Scegli i rinasci Non me la posso cavare da solo All'attacco Oh Guarda che ti vedo Ti vedo Ti vedo? Ah Aiuto No No, buono Buono cucciolo, buono cucciolo, buono Allora No che ti faccio buone No, che ti faccio fuori, chi faccio fuori, chi faccio fuori Voilà, vittoria Si, che bello E ora visto che il video se no dura troppo poco e non mi mettete like Fatelo, mi raccomando Così almeno avrete un bello stecchino nel negozio E niente, qui facciamo una footbrawl Un campbrawl, non so perché Una mappa a caso Ho scelto E niente Let's go Aiuto Allora Vai che quell'8bit È praticamente un morto Un cadavere Ah, no Ok, raga, aiuto No, 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 puccio Bish, bish, bish No, non sei niente Allora, raga Occhio All'attacco E sono morto Ok, allora, raga Siamo ancora qua Disparo Grazie mille, pocio Ti voglio bene Io corro Corro, corro, corro Vabbè, non ce la facevo lo stesso Quindi Niente Vai Vittorie Cioè, vittoria no Però abbiamo segnato Ed è sempre Metà vittoria È metà vittoria No, 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 no tu ti danno ma cosa stonks no 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 mi arrivo addosso vabbè io sono morto raga questa è una partita super combattuta secondo me finisce in pareggio la partita ok allora ora di qua no vabbè mi pensa 3 2 1 pareggio ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per entrare a far parte del branco e cliccate la campanellina per non perdervi nessun video e noi ci vediamo ciao